vediamo ora come inserire i parapetti e completare diciamo così le terrazze e il portico d'ingresso del nostro edificio allora incominciamo vi ricordo che diciamo così il terrazzo che da sopra l'ingresso principale della casa ha un parapetto che di fatto è un muretto invece nella parte retrostante c'è una ringhiera vera e propria allora iniziamo adesso dal nostro parapetto del terrazzo d'ingresso che dicevo un muretto cioè fatto in muratura con la stessa finitura della nostra facciata lo ci collochiamo sul piano primo e andiamo a disegnare il nostro il nostro parapetto allora rimetto le palette come devono essere e allora il nostro parapetto decidiamo di farlo di 20 centimetri allora prenderemo lo strumento muro nelle proprietà del muro metteremo che la larghezza è 20 centimetri come impostata qui generico strutturale l'unica cosa che dovremo fare è il nostro muro sarà un muro un muretto non collegato con un'altezza non di due metri ovviamente ma di un metro che è l'altezza del parapetto clicchiamo su ok e andiamo a disegnare questo muro giriamo la linea di riferimento prendiamo il bordo del solaio e abbiamo disegnato il nostro muro lo possiamo vedere in 3d eccolo qua che è rappresentato diciamo correttamente e dobbiamo fare qualche piccola modifica e le modifiche sono queste allora ritorniamo sul nostro piano primo ora questo muro è largo 20 centimetri quindi è diciamo così più sottile rispetto alla muratura della casa laterale che è di 30 ma siccome ricordiamoci sempre che dovremo andare a duplicare i nostri muri cioè il nostro il nostro modulo abitativo e duplicandolo qui ci sarà una sovrapposizione non non precisa nel senso che questo muro dovrebbe essere in asse con il muro centrale della casa quindi considerando il muro centrale della casa il muro di spira è di 30 centimetri e questo muro è di 20 avremo uno scarto di 10 centimetri che significa che questo muro lo dovremo tirare un pochino all'interno di 5 centimetri la meta di 10 allora come facciamo innanzitutto abbiamo selezionato i muri come un unico muro raggruppato quindi la prima cosa selezioniamo il nostro muro andiamo sul comando edita raggruppamento separa in modo che adesso avremo tutti i tre muri separati prendiamo il primo muro lo andiamo a selezionare sul bordo e con il comando sposta lo spostiamo verso questa direzione di 0,05 eccolo qua adesso è in asse con il nostro muro facciamo la stessa cosa per l'altro spostandolo annullo che ho messo un errore eccolo qui lo clicchiamo dal nostro bordo e lo portiamo verso l'interno anche questo di 0,05 eccolo qua dobbiamo risolvere quest'altro piccolo problema semplice da risolvere perché chiaramente lo dovremo allineare cliccando sul bordo l'opzione pet palette scegliamo il punto di riferimento aspettiamo che esce la linea guida e lo portiamo giù vedete in questo modo è diciamo così preciso facciamo la stessa cosa all'altra parte clicchiamo sul nodo pet palette opzione stira scegliamo il punto di riferimento aspettiamo che esca la linea e lo portiamo in questo modo abbiamo disegnato correttamente il nostro muro adesso vedremo che il disegno si aggiorna ora a questo punto dovremo per completare la nostra opera disegnare anche i pilastri del piano terra allora che mancano andiamo al piano terra ok e dobbiamo adesso abbiamo il sottolucido di riferimento del piano inferiore conviene visualizzare il sottolucido di riferimento del piano superiore che dove è la terrazza in modo da sapere il punto preciso dove mettere il nostro pilastro la forse il modo più rapido è che su finestre palette attiviamo la palette del sottolucido di riferimento e diciamo che invece di visualizzare il piano sotto il piano corrente visualizziamo il piano sopra il piano corrente eccolo qua adesso in questo modo noi potremo andare a disegnare il nostro pilastro la prendiamo l'opzione pilastro il nostro pilastro sarà 30 per 30 scegliamo come punto di inserimento questo che va bene e lo andiamo a mettere in questo punto eccolo qua facciamo la stessa cosa dall'altra parte solo che in questo caso dovremo scegliere come punto di inserimento quest'altro e lo mettiamo qui ok adesso se andiamo nel 3d ecco dobbiamo notare alcune cose allora per poter avere una superficie continua e dobbiamo utilizzare lo stesso materiale allora nel caso del muro il materiale che abbiamo utilizzato era un generico strutturale nel caso dei pilastri non ci abbiamo fatto molta attenzione però anche in questo caso il materiale è un generico strutturale adesso lo dobbiamo andare a ritrovare comunque un generico strutturale classifica eccolo qua generico strutturale c'è comparso adesso dobbiamo fare la stessa cosa per il solaio allora se noi selezioniamo questo solaio e andiamo sul nostro materiale vedrete che il materiale è cemento strutturale allora se noi mettiamo il generico strutturale eccolo qua fermo restando del sopra l'abbiamo cambiato materiali differenti il materiale è in questo caso uniforme per cui il nostro prospetto verrà uniforme verrà fatto con lo stesso materiale l'unica cosa che non abbiamo fatto in questo caso torniamo al piano primo è stato quello di che il solaio ancora è unico nel senso che abbiamo dato la finitura del parquet lo stesso discorso che abbiamo fatto per il piano terra quindi conviene separarlo con questo strumento da questo punto a quest'altro punto sotto e del solaio che andrà sulla terrazza andremo a mettere che invece di legno quercia chiaro sarà di piastrelle 30x30 in modo da evitare di mettere il parquet all'esterno adesso qui non si vede bene ancora in 3d però se noi lo rodiamo eccolo qua si vede la differenza tra il parquet e la mattonella adesso andiamo a lavorare sul terrazzo diciamo del retrostante e dovremo fare più o meno le stesse operazioni allora possiamo innanzitutto subito fare questa operazione di selezione di separazione del solaio quindi andiamo qui selezioniamo il nostro solaio prendiamo lo strumento separa clicchiamo da qui a qui scegliamo la parte da tagliare era indifferente il sopra al sotto andiamo sulle proprietà di questo di questa struttura invece che legno di quercia mettiamo le mattonelle 30x30 quindi abbiamo già fatto questa prima operazione ecco adesso si aggiorna il disegno e vedremo le mattonelle ora ragioniamo un attimo su questo piano primo in questo piano primo noi adesso dovremo andare a mettere una ringhiera in questo caso che andrà sul lato frontale la separazione tra un appartamento e l'altro verrà fatta con un con una muratura sempre alta alta due metri diciamo così di separazione tra una terrazza e l'altra allora conviene disegnarla soltanto da una parte cioè la potremo disegnare anche da tutte e due le parti possiamo disegnarla così anche perché molte di queste strutture poi si sovrapporranno però potremo disegnarla anche da una parte sola in modo che quando potremo accoppiare le varie case non c'è il problema della sovrapposizione allora prendiamo lo strumento muro facciamo un muro in questo caso alto due metri gli diamo sempre uno spessore di 20 centimetri partiamo da questo punto giriamo la faccia e arriviamo a questo punto qua ok se andiamo se andiamo sul 3d ecco allora il materiale sembra continuo semplicemente perché la sezione della pianta è impostata a un metro circa per cui un metro circa questo un metro e venti dovrebbe essere una cosa di questo genere il il muro in questo caso viene selezionato invece sotto è rappresentato in modo differente proprio perché il muretto che abbiamo disegnato è più basso del piano di sezione andiamo a vedere in 3d quello che abbiamo appena fatto eccolo qua e vediamo che c'è questo muro di separazione allora anche in questo caso come abbiamo fatto per il piano terra dovremo spostare questo muro di 5 centimetri verso l'interno proprio per evitare che nella sovrapposizione ci siano errori eccolo qua allora a questo punto potremo anche fare lo stesso muro dall'altra parte utilizzando un pochino anche gli stessi criteri che abbiamo utilizzato per per il resto dell'edificio nel senso che quando andremo a sovrapporre gli edifici ad accoppiarli è chiaro anche in questo caso ci sarà questo muro che sarà doppio per cui dovremo poi risolvere il problema però adesso lo lasciamo soltanto in questo caso oppure potremo anche disegnarlo magari disegniamolo e facciamo partire questo muro da qui cambiamo la faccia a qui ok poi dopo lo prendiamo e lo spostiamo di 5 centimetri verso l'interno eccolo qua allora adesso dobbiamo andare a disegnare la nostra ringhiera allora per disegnare la ringhiera c'è lo strumento parapetto eccolo qua lo strumento parapetto è uno strumento estremamente articolato nel senso che noi avremo la possibilità di disegnare il corrimano top il corrimano base le varie traverse quindi l'asta sotto le colonnine le balaustre e i vari pannelli ammesso che ci sono va bene quindi qui avremo modo di poter fare tre cambiare insomma tutte le varie opzioni adesso noi ci limitiamo utilizzare lo strumento standard sapendo che poi è personalizzabile l'utilizzo di questo strumento è estremamente semplice basta cliccare sui bordi del nostro della nostra terrazza con questo modo viene disegnata la nostra ringhiera andiamo adesso in 3d ecco e vediamo che questa ringhiera è stata disegnata in modo correttamente in modo che questo è un singolo terrazzo della nostra unità abitativa che poi quando andremo ad accoppiarlo ci permetterà di poterlo fare un po' dopo gli elementi che si sovrappongono e vedremo poi come risolverlo ecco in questo modo abbiamo così realizzato anche i parapetti del nostro edificio sia nel lato diciamo così del giardino che anche nel lato del portico d'ingresso della nostra casa è stato un po' dopo gli elementi che si sovrappongono un po' dopo gli elementi che si sovrappongono grazie grazie